Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi va a vedere l'evoluzione del karma per i prossimi tre mesi. Non ha un periodo di tempo definito nel calendario, ma ha una validità di tre mesi da quando vedete la lettura. Ne ho pubblicato già una, più o meno verso gennaio, quindi se volete togliervi lo sfizio e andare anche a vedere se risuona quella, la trovate nelle letture atemporali, c'è la playlist e probabilmente anche nella sezione dei video, ma dovete scorrere in basso fino a gennaio, quindi magari è più pratico della playlist delle letture collettive, scusate, delle letture atemporali. Bene, mostrami Aquario, tendenze evolutive del karma per il prossimo trimestre. Il giudizio e l'eremita. Nuovi punti di vista, nuove prospettive, nuove forme di vedere e valutare, relazioni, situazioni, la vita in generale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volesse completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere che aria tira, ragazzi. Tre di spade. La torre, il giudizio nuovamente. Fante di spade, imperatore. Sette di bastoni e due di spade. Ragazzi, preparatevi, tenetevi forte. Per molti nel prossimo trimestre ci sarà un risveglio spirituale. Questo lo sento forte. Qualcuno potrebbe essere proprio nella fase dell'eremita di questo risveglio spirituale, e qualcuno potrebbe, diciamo, inciamparci proprio nel prossimo periodo. Quindi tenetevi forte, aggrappatevi dove potete, ma avete per ben due volte il giudizio con una torre o un'eremita, quindi siamo lì, eh? Qualcuno, devo dire, che potrebbe già aver iniziato questa fase, questo processo. Per chi non sapesse, vi consiglio di cercare su internet informazioni aggiuntive, oppure potete anche abbonarvi al canale, lì lo spiego molto nel dettaglio. Comunque andiamo a vedere adesso con i mini tarocchi come sarà poi l'evoluzione, perché si parte da un re di spade che in realtà mi suggerisce disorganizzazione mentale in questo caso. Andiamo a vederlo. 4 di coppe? Sì, è come se non vedeste qualcosa. E giudizio di nuovo? Allora, io ho la sensazione che questa confusione mentale sia perché vi state focalizzando su quello che non avete, invece di focalizzarvi su quello che avete raggiunto, sugli obiettivi che avete conseguito, su quelli che sono i traguardi, le vittorie, avendo il giudizio al contrario qui sento che è come se non avesse una visione piena di insieme, di una certa situazione, di una certa relazione, anche se con l'eremita e il giudizio sento che è la vostra vita, un po' più in generale. Andiamo a vedere la torre. Scusate, la guardo per curiosità. 2 di bastoni, non voleva reincastrarsi, né girarsi, era bloccata. mondo e 4 di pentacoli. Allora, vi dirò che qui per qualcuno ci sarà un tema legato a una casa, legato a un trasloco, a un trasferimento, a un movimento che bisogna fare per prendersi cura magari di un immobile. Restando un po' più nel generico, ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno cadrà una stabilità. Guardate, per molti è la casa o una residenza o se per esempio, non lo so, state affittando delle case per le rendite passive, come rendita passiva, potrebbe subire come un cambio, potrebbe esserci come anche la chiusura del contratto. E vi dirò con il mondo. Lo vedo tanto come un qualche cosa che mina le vostre radici, è proprio una questione di primo chakra. come mi guadagno da vivere, come mi sostengo nella vita, come penso al mio futuro, più che il mio futuro come sto organizzando, che è quello che manca qui, la mia indipendenza finanziaria, come la sensazione finanziaria piuttosto che abitativa, piuttosto che emotiva. Anche se con un 4 di pentacoli è molto legato, ripeto, al primo chakra, a quello che ho per sopravvivere, quello a cui mi aggrappo, quello che è la mia zona di comfort. Andiamo a vedere il giudizio. 9 di bastoni. I 7 di bastoni. E come se avessi questo risveglio, questa nuova comprensione di quello che vuol dire lottare per ottenere quello che volete, che non è solo difendersi da quello che succede nella vita, cioè il punto è che ho la sensazione che questo 9 di bastoni al contrario sia, ok, nella vita mi succede questo e lo contrasto, nella vita mi succede quell'altro e lo contrasto. E così si va vivendo, no? Cercando di gestire quello che succede. mentre il passaggio è al 7 di bastoni, cioè io voglio arrivare là e tutto quello che si mette in mezzo lo gestisco. Quindi c'è una direzione di base e si cercano di scansare i colpi, mentre nel primo caso non c'era la direzione di base, c'è più un navigo nella vita cercando di sopravvivere a quello che succede. E qui ho come la sensazione che venendo, essendo o sentendovi minacciati nella vostra sopravvivenza primaria, qui arriverà come uno scatto, un movimento in avanti che vi farà dire, no, ok, ma io dove voglio andare? Ed è per quello che c'è qui anche l'eremita. Andiamo a vedere il fante di spade. Fante di coppe. E dieci di pentacoli. Qui si tratta di regolarizzare, contrattualizzare, ufficializzare qualche cosa che è agli inizi. Potrebbe essere la vostra esperienza in qualche cosa, potrebbe essere una nuova relazione, potrebbe essere una nuova gestione considerata questa torre, questo quattro di pentacoli, magari di una casa, scusate, magari di una famiglia. Qui sinceramente sento case di campagna e cascina, roba grossa. Ma sento i bed and breakfast in qualche modo in questa lettura, c'è qualche cosa che ha a che vedere con le rendite passive e le case. Andiamo a vedere l'imperatore, perché qui, ragazzi, arriva la stabilità, tenete presente che sia il dieci di pentacoli che l'imperatore sono carte di contratti, sono due, quattro, quattro e quattro, quindi se prima è vacillato qualcosa, dopo arriva la stabilità, diciamo verso la fine del periodo. O perlomeno con l'imperatore inizierete a lottare per quello che vorrete voi, per quello che volete voi. E l'imperatore è una di quelle energie che picchia il ferro finché è caldo, si dà delle regole e le rispetta giorno dopo giorno per riuscire ad arrivare dove effettivamente poi è arrivato, a costruire un impero. Andiamo a vedere. E la sicurezza economica. 9 di coppe, quindi arriva in un certo senso questa soddisfazione personale, questa presa di potere, questa nuova visione del Creo la mia abbondanza. Vi dico, qua ci potrebbe essere qualche nuovo contratto, qualche nuovo lavoro, qualche nuova idea anche, ok? Si tratta un po' di andare a fondo di quelle che sono le idee, perché da un lato avete due fanti che sono, diciamo, rappresentano la gioventù, il fatto che qualche cosa, un'idea, piuttosto che una relazione, spade e coppe, che sono acerbe, no? E qui si tratta di concretizzare, di regolarizzare, di unire questi due lati, anche se vogliamo che potrebbe essere l'idea, l'emozione per l'idea. Ma ci arrivate, ci arrivate perché avete l'imperatore. Ancora una carta per l'imperatore? Guardate, a un certo punto 7 di bastoni e addirittura il contrario. Come se aveste finito. E 5 di spade. Sì, io qui sento che arriverete ad un certo punto dove sarete appagati del tipo di progressi che avete fatto. Datemi un'altra carta per il 5 di spade perché ho come la sensazione che comincerete a essere... Ecco, infatti, regina di spade. Anche fin troppo calcolatori. 5 di spade parla sempre un po' di battibecchi e di lotte egoiche, lotte di potere. Siccome abbiamo anche la regina di spade, che è una di quelle carte che taglia l'energia che non serve, ci potrebbe essere anche una sorta di soddisfazione personale nel... Non lo so, come l'aria che sia una sorta di... Ok, ce l'ho fatta. Adesso ditemi qualcosa. Una rivendicazione personale, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 5 di pentacoli e mago. Andiamo a vedere anche questo 2 di spade. 4 di bastoni e papà, che è interessante. Allora, qui si tratta se fare le cose... Bene, fatte bene... O se iniziare a barcamenarsi per trovare una sorta di stabilità. C'è una sorta di risveglio. Si vedono le cose un pochettino da un punto di vista più ampio. C'è questo bisogno di smettere un attimino di solo gestire quello che succede, ma trovare una direzione, seguire una vostra idea, un vostro sogno potrebbe anche essere. Concretizzandolo. C'è bisogno di arrivare a una sorta di stabilità materiale, di completezza, di pianificazione e organizzazione. Qui ho come l'idea che ad un certo punto, siccome avrete raggiunto una sorta di obiettivo, che vi sediate un attimo. Cioè per la serie, ma adesso che ce l'ho, cosa faccio? Vado avanti, allargo ancora la cosa o resto qui? Sapete no? L'energia va mossa, si muove. È difficile che qualche cosa di energetico stia fermo. Quando noi vediamo che qualche cosa a livello energetico è fermo, o sembra fermo, è perché in realtà è in... come si dice... in diminuzione, diciamo, invece che essere in espansione e in implosione. Ecco. E quindi qui ho un po' perché avete un 2 di spade, è come se alla fine del periodo ci fosse una sorta di dubbio. Se avete fatto la cosa giusta o no? se vi siete raffreddati troppo o no? Qui ho come l'idea che arrivi un po' di titubanza, un po' di no, basta, ho già fatto abbastanza, adesso non faccio più niente, non voglio più rimetterci tempo, non voglio più rimetterci del denaro, non voglio sprecare le mie energie, le mie risorse, le mie doti. Guardate, vi dico una cosa, qui c'è una sorta di cambio, effettivamente dopo ogni cambio o dopo ogni nuovo inizio, diciamo così, c'è come una sorta di curva che va verso l'alto. Ad un certo punto questa curva, inevitabilmente, prima di scendere, perché è proprio una dinamica energetica universale, ha una sorta di momento di stasi, no? Quindi sale, poi c'è una sorta di momento di stasi, dopodiché scende, non si sa se tanto o poco, dipende dal settore della vostra vita, però normalmente c'è come un andamento nella vita, nelle cose di sali e scendi. O come la sensazione che, alla fine del trimestre, sarete molto in questa sensazione di stasi, anche per il tipo di carte che vedo qui, è come se prendesse un attimino di tempo. C'è un'altra cosa che vi devo dire, che dall'inizio, che sento questa cosa che mi tormenta, che io non la voglio dire, però continuo a dirmela, quindi la dico. La prima cosa che mi è venuta in mente, quando ho visto il re di spade al contrario, però mi aspettavo che uscisse un diavolo per dirlo. Siccome il diavolo non è uscito, perché sono cose sempre un po' fortine, allora ho preferito non dirlo, ma siccome lo rivedo esattamente qui, insomma, quello che ho sentito è manipolazione. Quindi io non lo so se siate voi che tendete a manipolare, o se ci sia effettivamente una figura esterna che tende a manipolarvi, però qui con questo mago al contrario mi si ripresenta, soprattutto perché? Perché abbiamo un 5 di pentacoli che parla di una ferita non risolta, che parla di qualcuno che pur di non essere abbandonato potrebbe tendere a manipolare gli altri. È una ferita, scusate, non una ferita, è un'attitudine, quella di manipolare, che abbiamo tutti. Tutti tendiamo, chi più o chi meno, a manipolare, ma soprattutto noi stessi ci facciamo come delle trappole a livello cerebrale, a livello mentale. Però ecco, quindi non prendetela come una cosa così drastica, perché potreste anche essere voi stessi, e il fatto che non ve ne rendiate conto perché non lo vedete, qui c'è o qualcuno che non vede che si sta manipolando, o qualcuno che non vede che viene manipolato. Però considerata la torre che di solito è una morte dell'ego, io ho come la sensazione che qui siate voi, che state manipolando voi stessi, o che tendete a manipolare gli altri. Ed è anche un po' per quello che ridevo qui, perché ho la sensazione che qualcuno, ve la dico, sì, come mi viene da dirla, goda proprio nel dire agli altri io questo l'ho raggiunto, cosa hai da dire? Dimmi un po'. Cioè, è proprio sento come se ci fosse un'energia un po' sfidante in questo periodo. E poi la decisione di, così, o meglio, l'indecisione che si presenta e che vi dico, ci vuole, ci vuole questo passaggio per arrivare al Papa. Secondo me qui il Papa, perché avete anche l'eremite e il giudizio, due volte il giudizio, tre volte il giudizio, quindi qui si tratta di uno scatto a livello spirituale che farete. Come vi ho detto all'inizio, per molte persone potrebbe essere proprio il risveglio spirituale, quindi quel boom, quel crack enorme della vostra vita che vi fa fare un cambio a 360 gradi e qui con il Papa io ho la sensazione che qualcuno inizierà a parlare ad un pubblico senza necessariamente avere una stabilità, mi viene da dire, lavorativa o progettualistica, ok? Perché effettivamente quando ho quattro di bastoni quando ho quattro di bastoni è al contrario è come se ci fosse di nuovo un saliscendi, però, ed è, prima ho detto che è una cosa strana perché sono due carte che parlano comunque di un'unione sacra. Questa rappresenta un po' un matrimonio pagano e questo è un matrimonio religioso, sono comunque unioni, no? E vederla girata al contrario da un lato è come se avessi bisogno di essere o sentirvi ufficializzati, e qui il punto è ok, vado, faccio vedere quello che realmente sono oppure sto, questa sorta di manipolazione se è interna, cioè voi manipolate voi stessi con delle attitudini, con delle questioni egoiche o cose di questo genere, forse vale la pena lasciare indietro tutta questa struttura mentale, questa manipolazione, questa, anche un po' finzione quando il mago è al contrario. è una lettura parecchio mi viene proprio da dire forte, ragazzi, perché sento una trasformazione dentro voi stessi in quello che è il vostro potere personale, sia a livello materiale, sia a livello caratteriale, tipo che, ho come l'idea che diventerete talmente tanto astuti, talmente tanto bravi, talmente tanto svegli, con tre volte questo giudizio, che tenderete a usare questa cosa non proprio per il bene più estremo di tutti, come se usaste questa cosa un po' a vostro vantaggio, quasi come se fosse una manipolazione. Il punto è che non lo fate solo con gli altri, lo fate anche con voi stessi e secondo me è quello, quello di cui non vi rendete conto e che avete bisogno di abbandonare un pochettino tutto un po' il settore del gestisco io, faccio io, ti faccio fare io quello che vuoi o cose di questo genere. che poi ripeto manipoliamo tutti però molte volte non ne siamo consapevoli perché io credo che se qualcuno ci spiegasse guarda tu stai facendo questo però in realtà visto dall'esterno può anche essere visto così quando uno si rende conto di dov'è l'errore di solito lo modifica, cambia il tipo di comportamento per non ripetere l'errore però quando non lo si vede è più difficile intervenire. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. guarigione è uscita un sacco di volte in un sacco di letture questa carta ma infatti voi avete anche tre volte il risveglio spirituale il giudizio che io associo molto in questo caso al risveglio spirituale guardate avete anche un set di spade che nei tarocchi tradizionali è una carta di bugie e qua viene chiamato i giochi politici sono proprio quei giochi politici quelle manipolazioni di cui vi parlavo prima allora qua con la carta della guarigione vi consigliano di essere coerenti tra quello che dice la testa e quello che dice la pancia in questo caso sarebbe cuore e mente ok in realtà per essere coerenti bisogna mettere in allenamento tutti e tre quello che si fa col corpo fisico perché diciamo la zona sotto rappresenta un po' il fisico il cuore quindi quello che si prova è quello che si pensa o si dice perché questa zona è collegata alla parte dei pensieri ma anche della parola come se doveste mettere in equilibrio e ho la sensazione che vi renderete conto del potere che avete e come lo state usando in modo non non dico che non sia sano perché magari se vi serve ottenere quella cosa e non fate male a nessuno però il punto è che è pericoloso perché è un po' come se vi rendesse un'altra persona vi dico con il mago al contrario sento che è come se ci fosse un po' di falsità andiamo a vedere un koan però può anche essere verso voi stessi ok lì dovete identificarlo voi con lo zen ogni giorno è un buon giorno senza lo zen anche i bei giorni sono brutti qui potrebbe essere visto una cosa del tipo con un punto di riferimento con un punto di ispirazione con una guida con un credo con una filosofia di vita una religione quello che è ogni giorno è un buon giorno senza questo punto di riferimento confusione mentale qui dice anche i bei giorni sono brutti in realtà lo zen è focalizzato sul vivere nel presente e quando di solito si vivono i giorni brutti è perché si vive tanto nei ricordi del passato e in quello che non si ha e invece cercando di vivere di più il momento presente ci si gode di più anche quello che si ha e insomma si vive in modo più pieno va bene amici dell'acquario vi ho fatto una lettura lunghissima spero di non avervi annoiato io intanto spero anche che vi abbia dato degli spunti di riflessione fatemelo comunque sapere nei commenti per sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e se invece volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao